Ciao, come mai buttiamo via questi elementi più importanti che reggono la costruzione della nostra vita stabile, viva, che dà la vita? Come mai? Oggi il Vangelo parla a noi su questo tema usando la metafora della pietra dell'angolo. Se avessimo saputo che buttiamo proprio che questo sasso che buttiamo via è pietra d'angolo, non avremmo mai fatto buttarla via, non avremmo mai buttato via questa pietra d'angolo. E questo stesso è in caso di pensare che se uccidiamo questo figlio di uomo possiamo ereditare, potremmo ereditare la vigna. Anche assurdo e così assurde cose facciamo nella nostra vita quando buttiamo via momenti belli, momenti che no, non posso, devo correre avanti, quindi non sacrificio, amicizie, sacrificio, momenti di tocco, momenti di dare un buon sguardo a qualcuno, di abbracciarsi, e di mantenere contatto fisico, spirituale con persone che ci sono vicino. Tutte queste altre cose sembrano a noi ancora più importanti e può essere, può darsi, che buttiamo via qualcosa che rende questa costruzione viva. Possiamo anche buttare tutti questi elementi della nostra vita che sembrano non utili, quindi tutti i dispiaceri, sfortune e altre cose che sembrano che non hanno posto nella nostra vita, invece di anche queste abbracciare, perché la logica che è dietro di questo che è pietra d'angolo non è ovvia. Non è ovvia, se fosse stata ovvia non avremo mai buttata la via. Cosa pensi tu?